Scusate, stiamo tutti quanti calmi, fermi un attimo Il tizio ha attraversato il portale, è impressione mia No, il tizio ha attraversato il portale, raga Il tizio ha attraversato il portale Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft CMA Allora, partiamo dal menu perché, come avevo detto l'altra volta, abbiamo attivato il portale nell'ultimo episodio E quest'oggi ho installato, diciamo, il primo aggiornamento, diciamo, no, uno degli ultimi aggiornamenti della versione 1.16 Infatti, come potete vedere in basso a sinistra, siamo nello snapshot 20W19A Ovvero che è una sorta di aggiornamento che però ancora non è completa, non è la vera e propria versione 1.16 Però, siccome, raga, dobbiamo un attimino, voglio andarla a vedere, perché tutti ci stanno andando nel Nether Voglio andarci pure io con la nuova versione Quindi, ho fatto una copia del mondo Onde evitare che possano buggarsi Infatti, ho creato questo vanilla in live stagione 2, versione 1.16 E però abbiamo anche da parte il nostro bellissimo vanilla in live stagione 2 E così, dove dovesse succedere un bug terribile, possiamo ripartire sempre da una base del nostro mondo Detto questo, non perdiamo tempo Partiamo, non fare backup, va bene E non ti preoccupare, zio L'ho già fatto, l'ho già fatto questa volta, zio E se il backup è carica Perfetto, andiamo, raga Ci siamo, ragazzi Allora, sta caricando il mondo Ci siamo Tra l'altro sta calando anche il sole Quindi dovremo andare velocemente a dormire Quindi, vado a dormire Mi sistemo l'inventario che c'è un bordello di cose Quindi andiamo a dormire Sistemo l'inventario Dopodiché partiamo assieme nella spedizione Per visitare il nuovo nether, signori miei Ok, signori, ci siamo Ho creato tantissime belle torce C'ho un po' di pesci che ci portiamo dietro C'ho qualche strumento che comunque mi può tornare utile Non perdiamo tempo Dovremmo ricreare ancora il gino 3 Ancora non l'ho creato, signori miei Prima o poi lo creeremo Prima o poi lo creeremo Prometto che lo creeremo Ma voglio andare nel nether, raga Voglio andare a vedere com'è cambiato il nether, signori miei E andiamo anche a prendere un bel po' di blocchi Per comprare tutta questa zona qua Stiamo pronti, signori? Stiamo per attraversare il nether Tra 3, 2, 1 Via! Si va, signori miei Si va! Dove andaremo? Dove andaremo? Non ci sa! Porca Di quella sozza Che cavolo sono questi blocchi? Spettacolo! E queste che so? No! Che cosa fantastica! Allora, sono sicuro che già molti di voi Cosa sono quei cosi che camminano? La lava si sta generando Basta che non mi si genera sulla testa la lava Andiamo tutti d'accordo Quei blocchi gialli che sono? No, raga, fermi tutti Noi siamo partiti proprio male No, no, no Non devi attraversare Ok Fermi tutti, calma Quindi il nostro portale è qui Questo che cos'è? Lo posso raccogliere questo? Che so sti cosi? Si, che cos'è? Blocco di verruche del nether Ah, ok, vabbè Queste sono le blocche di verruche del nether Che le hanno messi anche Questo portale sta a fanbordello Mamma mia che fastidioso questo portale Raccogliamo questi blocchi di verruche del nether Che sono molto carini Molto carini Ok Poi Vediamo cos'altro c'è Questo che cos'è? Che cos'è questa cosa? Controllo il ricettario Gambo cremisi Non so cosa sia Questi Avevo visto delle sorti di liane Queste le posso pigliare? No Secondo me c'è una le cesoe C'è una le cesoe Prendere questi, ragazzi No, c'è una le cesoe Io mi faccio le domande e mi do le risposte da solo Ci vogliono le cesoe Per prendere questo? Sì Sì Ci vogliono le cesoe Rampicante e piangente No ma è fantastico comunque E quel blocco là? Che cos'è? Mi recuperi pure quello? Cos'è questo? Questo cos'è? Fungolume Fungolume Fantastico raga Ma che cazzo l'hanno fatto nel nether? Ma perché non ci sono venuti prima nel nether? Raga Ma è fantastico Voglio il fungolume Cos'è il fungolume? Ma lo sta rompendo? Sì dai rompilo Rompilo Raccogliamo tutti questi fungolumi Allora stiamo calmi Là ci sono dei cosi che si muovono Io voglio prendere qualche altro di queste Di queste cose qui I rampicanti strani Mi dai qualche altro rampicante Che però sono Uuuuh Fermi tutti Questi Li posso pigliare pure Che sono? Radici crimissi Ma io non Non ci posso credere raga Ma hanno fatto un lavoro pauroso Aha Che Chi sei tu? Cosa sei tu più che altro? Cosa è un jedi? E' un Wow Ma è fantastico raga Ma perché non ci sono venuti prima noi qui? Mi fai raccogliere anche questo? Scusami Questo l'abbiamo preso? No Cos'è questo? Necelio Crimisi No ma è fantastico raga Sicuramente voi già li avevate visti Voglio andare a vedere quei blocchi là Cosa sono? Tanto siamo tutto Siamo tutto in zona Siamo vicini Un po' di illuminite dobbiamo prendere raga Un po' di illuminite mi serve Non ci dimentichiamo l'illuminite Perché l'illuminite mi serve Com'è che non hanno aggiornato l'illuminite? Strano Arrivano strani rumori Dalla superficie E non capisco Cosa sia Lamentarsi così tanto I pigmen No hanno cambiato i pigmen Adesso è veramente la faccia da maialino No il pigmen Ha cambiato Gli hanno fatto le orecchie Di qua ci posso andare? Sì Giriamo di qui C'è qualcosa di interessante qui Ok Dov'erano quei blocchi? Quei blocchi che avevo visto dorati Sono là Sono là Ho cambiato anche il rumore Di questa Di questa Della nether rack Dai è così Dai è così Ok Voglio recuperare questi Cosa sono questi? Che cos'è? È oro Pepita d'oro Spettacolo Hanno messo l'oro così Grezzo del nether Fantastico No ho perso la pepita Dammi la pepita Ok Quindi così recuperiamo le pepite Ok Raga ma ci vorrà un Non so quanti anni Per visitarlo tutto Questo nuovo nether Fantastico Il quarzo Ricordiamo anche il quarzo Che torna utile Grazie Ricopriamo qua il quarzo Raga io Non sto stoppando nulla Cioè stiamo Tornando qualche cosina Non sto tagliando niente Così lo stiamo visitando Proprio assieme Bella così C'è un altro blocchetto Se non sbaglio no No ok Torniamo un attimino indietro Fantastico Saliamo lì Riesciamo a salire là sopra Come ci posso salire là sopra Che cos'è quella cosa che corre? Aia Hai qualcosa che mi ammazza pure Aia Aia Ma chi cazzo No no Sono finito nella lava Ma la maiala Scusate Stiamo tutti quanti calmi Fermi un attimo Perché? 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 Sono morto Carbonizzato Lottando con un Piglin? Cos'è il Piglin? Che cazzo non è il Piglin Che abbiamo perso tutto? Mannaggia a lui A chi non glielo dice pure Piglin Ma non è possibile che devo morire sempre Raga? In questa serie devo morire sempre Ma perché? Avevamo circa 30 litri 30 e passa di veglia Ma raga Stavamo esplorando il Nether Ma parca di quella Allora Andiamo a vedere di recuperare tutto Sperando che il Piglin Non ci abbia soffiato Dalla roba Cos'è il Piglin? No Non me l'aspettavo questa raga Non me l'aspettavo questa Io volevo recuperare tutti 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 Materiali Per sistemare quale cosa E invece no Oh Ho recuperato un blocco di Nether Interessante Ok Stiamo calmi Allora Cosa sono quei cosi lì? Allora Devo stare attento Aia No no Ma stiamo a scherzare Ma stiamo a scherzare raga Ma mi stanno ammazzando tutti Ma stiamo scherzando No 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 Questa mi sta sparando di nuovo No 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 Siamo messi male Siamo messi male Il mio piccone diamante Il mio piccone diamante Il mio piccone diamante Le mie Cortesemente Me ne vorrei tornare a casa Senza altri danni Cortesemente È stato un piacere Grazie mille Bello il Nether Bello Bello Il tizio ha attraversato il portale Impressione mia No Il tizio ha attraversato il portale raga Il tizio ha attraversato il portale No 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 Sono morto Sono morto raga Fantastico Aspettate Io questo qua lo devo catturare però Ti è trasformato Non ha più l'arco È diventato un pigman Con la mia armatura No Io lo devo catturare a questo No 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 Fermi tutti Come faccio a catturare a questo Allora Devo crearli Aspettate un attimino raga Dobbiamo trovare un punto dove catturarlo C'ho il pigman nel mio mondo È bellissimo Qui 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 Lo voglio fare qua il guardiano Mettiamolo qua Mettiamolo qua Tanto però lui non sta facendo niente Cioè è venuto nel mio mondo E si è ritrasformato A essere normale Ho capito Allora Dobbiamo fare una cosa molto semplice Pigman mio Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Per ora Ti chiuderemo così In maniera molto brutta Ma non ti preoccupare Un giorno poi ti faremo Una casetta molto più carina Non ti preoccupare Perché ti meriti molto di più Pigman E io come esco E io cosa mangio Più che altro Che sto a morire Io dovrei mangiare Perché appena io lo colpisco Questo Mi 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 uccide E non è male come dire Sapete Allora Aspettate un attimo Ce l'ho una Ce l'ho del legno Mi date del legno Del legno Del legno Del legno Ce l'ho una crafting table Perfetto Ok Come concludere l'episodio Un episodio iniziato Per un qualcosa E concluso in tutt'altro Praticamente Però va bene Noi siamo fatti così Raga Siamo fatti così Siamo proprio Fatti così In questo In questo live Non ho assolutamente Ho Penso di aver Tagliato pochissimo Perché raga Cioè è successo di tutto Però Bella così Allora Io mi serve Un attimino la spada E Questi di qua Dammi pure i pesci Tanto pure se li perde i pesci Non fa nulla Non li ho messi i pesci I pesci poi li recuperiamo Prossimamente Allora Prima che Cada la notte Spunti nei mostri Succeda L'inferno Praticamente Allora Dobbiamo fare così Così Ok Così Così Questo di qua Me lo devi levare Quindi devo recuperare il piccone Mannaggia Guardate quanto tempo sto perdendo Raga Guardate quanto tempo sto perdendo Questo me lo devi chiudere così Ok Questo lo rimetti qua Ok Andiamo a parlare con Pigman Pigman Con la mia armatura Cioè Parliamone Pigman Pigman Zio Bello zio No no Alzati bello zio Ora io ti colpisco Tu dovresti inseguirmi Tutto incacchiato Vero Mi sta inseguendo tutto incacchiato Sì Bravo zio Bravo Bravo Ora devi riuscire a entrare Bravo zio E farmi mettere Uno e due Perfetto Mi puoi anche uccidere Sono la tua vittima preferita Uccidimi No No Non mi uccide più Perché non mi uccide più Eh Perché È troppo strana come cosa Da un piglin Zombificato Ho capito Allora noi dormiamo Intanto Signori miei Dove che andiamo a prendere Una targhetta Gli dobbiamo dare un nome Subito a questo qua Lo chiamiamo Come lo possiamo chiamare Raga Un nome subito Randomico Randomico Subito Maialino 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 No Mi hanno ucciso No raga Mi hanno ucciso pure L'altro G No Non ci credo Non ci credo Mi hanno ucciso pure L'altro G Mamma mia Che episodio brutto Raga Che episodio brutto Ce l'ho una targhetta Dammi una targhetta Dammi una targhetta Sono cieco io No Ok la targhetta Dobbiamo andare a nominarlo Dobbiamo andare a dare un nome Prima che Che mi despona Lo chiamiamo Lo chiamiamo Lo chiamiamo Zombie Lo chiamiamo Maialino Maialino Inoino Lo chiamiamo Maialino Inoino Non so perché Maialino Ino Ino Maialino Ino Ino Dai 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 Veloce 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 L'ho detto veloce Corri e cammini Come un vecchio Gli 80 anni Veloce 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 Che maialino Ino Ino Ci despona Dai 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 Dove sei Maialino Inoino Eccolo Abbiamo maialino Inoino Che carino Guardate che carino Con la nostra bellissima Con la sua spada d'oro La nostra bellissima spada Che rimarrà lì negli secoli Dovrevo fare una struttura Anche per contenere Maialino Inoino Che sarà il nostro guardiano Del portale del nether Detto questo ragazzoli Aspettate Facciamo una Una chiusura di video Che ci sta Signori miei Perfetto Aspettate che sto a vomitare Eccola qui La chiudiamo qui Signori miei Non abbiamo No Se levate il casco Che gentile Avete visto Se levate anche il casco Per salutarci tutti assieme Detto questo Vi ringrazio per i like E per i commenti Noi ci vediamo domani Sempre qui sul canale Per un prossimo video Bella raga Ciao 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 Ciao